Una buona ragione per fare una cosa popolare, soprattutto presso i giovani, non perché i giovani consumano, perché i giovani conoscono ciò di cui stiamo parlando e sanno che continuare con la proibizione e la criminalizzazione di questo mercato è un'assurdità. Quindi, quale che sia il tempo che abbiamo davanti, questa è un'operazione che si deve, quella di votare, poi vedremo chi vince, vincerà il migliore, chi avrà un voto in più. È una cosa che si deve ai 220 sottoscrittori, ma che è importante per il nostro Paese. Ad esempio, stiamo votando una correzione ai conti che è necessaria all'Italia, non perché lo chiede qualcun altro, avremmo risolto il problema con i miliardi che verrebbero non dalle tasche dei contribuenti, ma dalle tasche dei mafiosi.